Alla presenza dei referenti provinciali di Italia Viva e Azione, si è tenuta lunedì mattina all'Hotel Corona di Domodossola una conferenza stampa dedicata alla sanità piemontese. Presente anche il neo-senatore di Italia Viva Enrico Borghi. Fra il pubblico ad assistere alla conferenza anche il presidente del Consiglio Comunale Domese e il sindaco Lucio Pizzi, la cui presenza è stata sottolineata dallo stesso Borghi. Il piano Cirio con la realizzazione di due nuovi ospedali. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.